Il segno in realtà ha tre dimensioni. Una dimensione è la propria realtà, la propria qualità, dice Peirce, fisica. Un'altra dimensione del segno è che questa qualità fisica si metta in relazione con un oggetto, in qualche modo lo esprima, pensate a una fotografia. Una terza dimensione è il fatto che il segno produca, debba necessariamente produrre per essere un segno, un altro segno. Per esempio una fotografia è una fotografia, si ha certe caratteristiche materiali, se rappresenta il mio amato cagnolino e se io la riconosco come fotografia e quindi nella mia mente produce un pensiero e questo pensiero dal punto di vista di Peirce è un altro segno. E naturalmente questo pensiero magari mi suscita delle associazioni, mi suscita degli altri pensieri, mi fa pensare a come è bello stare a casa mia dove c'è il mio cagnolino, oppure mi fa pensare alla fedeltà, oppure mi fa ricordare che devo comprargli del cibo. Sono tutti altri segni dal punto di vista di Peirce, ogni pensiero è un segno e in definitiva io stesso sono un segno per Peirce, il che comporta che non ci sia una differenza fondamentale fra me come essere pensante e un'immagine che a sua volta è produzione di segni, oppure una parola e così via. Quello che conta è questa specie di circolazione generale di segni che pian piano sono condivisi, costruiscono pian piano tutti assieme una serie di abitudini o di abiti come dice lui e una serie di rimandi e di complessi di segni. Il compito del filosofo è quello di capire il funzionamento di questi segni, di classificarli, di studiarli, di capire come attraverso i segni noi possiamo conoscere delle cose, possiamo dimostrare delle cose, che tipo di rapporto hanno i segni fra di loro e così via. L'idea di Peirce è che il pensiero, la vita, la realtà in qualche modo vada pensata come catene di segni, cioè come una successiva germinazione di segni nuovi a partire dai segni vecchi e che a queste catene di segni si applichino le leggi della logica, le progressive elaborazioni che portano al pensiero scientifico e così via. In conclusione, il pensiero di Peirce è un pensiero del segno, la filosofia di Peirce si occupa di segni, è al centro del segno e quindi si chiama semiotica.